Buonasera 287, la trasmissione di intrattenimento di Sicilia TV è ormai diventata un appuntamento fisso per molti affezionati telespettatori che grazie a questo format hanno l'opportunità di interagire con i conduttori e vincere tanti premi messi a disposizione dagli sponsor. Ieri nel corso della quarta puntata sono state tante le chiamate ricevute da Vanessa e Salvatore come altrettanto numerosi sono stati i premi aggiudicati nei due giochi ovvero l'Isola e la Soglia. Così come è avvenuto già nelle puntate precedenti e anche nella diretta di ieri non sono mancate le novità. A entrare negli studi di Buonasera 287 è il nuovo gioco dei bottoni. Il regolamento è semplice, basta indovinare quanti bottoni sono contenuti all'interno di un barattolo. Il concorrente che indovinerà il numero esatto che è gelosamente custodito dal notaio si porterà a casa un avvolgente caldo piumone messo in palio da a tutta biancheria. La serata è stata leitata dalla brave e giovane cantante Sharon Contello, allieva dell'Accademia Palladium di Favara. Nel salotto di Buonasera 287, ospite di Salvatore Sorse, il regista favarese Giuseppe Bennica che il studio ha raccontato della recente esperienza vissuta a Cinecittà a Roma dove insieme al suo staff di collaboratori ha fatto parte dell'equip che ha girato il docufilm Figli del set diretto dal catanese Alfredo Lopiero. Vanessa Miceli e Salvatore Sorse tornano venerdì prossimo alle ore 21 con la quinta puntata di Buonasera 287, la trasmissione che vi premia e vi aspetta. Basta alzare la cornetta.